Sì, sono molto contenta, ho cercato subito di mettere il mio ritmo nel primo giro, però Tamara ha tenuto veramente bene, fino al terzo giro poi ho ingranato e ho recuperato tanto terreno, è una bella vittoria, sono molto contenta, prendo dei punti anche per la classifica generale, il percorso è stato molto duro e è sicuramente un bellissimo allenamento, quindi ci vediamo a Nalles, tengo ancora la maglia da leader, quindi ci vediamo lì.